Vi siete mai chiesti quanto valgono e quanta ricchezza muovono in Trentino, Università e Fondazione Bruno Kessler? La risposta è 400 milioni di euro circa. È l'impatto sul PIL Trentino, cioè quasi 107 euro per ogni 100 euro spesi dall'Ateneo e poco meno di 104 euro per ogni 100 euro spesi dall'Istituto di Ricerca di Povo. Lo dice uno studio di Opes, l'osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e la valutazione della domanda sociale. Per calcolare il dato sono state considerate le spese dei due istituti nel 2009, 45 milioni di euro per la fondazione, 192 milioni per l'università, ai quali vanno aggiunti 91 milioni di euro sostenuti dagli studenti dell'Ateneo.